Wow, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, frate fermo E niente ragazzi, faccio questa breve intro a questo breve video per dirvi semplicemente che questo video è stato registrato praticamente il giorno dopo aver comprato la moto e niente avevo in mente di registrare un video reaction come tutti gli altri in cui facevo vedere la mia nuova moto ai miei amici il problema è che non ho avuto il tempo di farlo, vari amici stavano in vacanza, altri non avevano tempo quindi la reaction l'ho registrata semplicemente di pochi eletti che vedrete nel video niente, ci tenevo a specificare che faccio questo video semplicemente perché il tempo ce l'ha con me niente, non riesco a registrare altri video, in moto specialmente perché piove e quindi niente, pur di non lasciare il canale vuoto senza contenuti, riempiamolo così, giusto per quindi niente, vi lascio al video ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video questo, se tutto va bene, dovrebbe essere il secondo video sulla mia nuova MT-09 SP vi invito quindi ad andare a vedere il video presentazione nel caso non l'avesse visto e oggi andremo a fare un video molto molto leggero in cui mostrerò la nuova moto agli amici e quindi andremo a fare un video reaction appunto dei miei amici alla moto premetto che i miei amici non sanno che moto ho comprato, a stento sanno che ho cambiato la moto quindi la reaction sarà più spontanea possibile e sinceramente non vedo l'ora quindi ci vediamo direttamente una volta arrivati là completo no, 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 fratti 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 e la regolazione del mono è una bestia e beh giustamente si 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 ma bellissimo ma volete i biglinder? si ma infatti va tonto ma come mi fanno tante le stronzatelle su una lipriccia si wow il portalarga il portalarga non è malaccio però secondo me va tolto ma questo pesciadone qua ma è proprio grosso, ingombrante si, enorme la conosco come un'altra pesca però non mi sa la vicina con la 0.9 sp è bella ah? vai vai è bassa lo sapevo ecco l'è arrivato perché è venuto a piedi? vabbè diciamo che non sarebbe cambiato a sala è un po' massimo ahahahah mi sono fanno anzi metterò più avanti cioè è un po' massimo è un po' massimo è un po' massimo bello guarda non ci sta eh adesso si e fra ma ci voleva la reaction la cosa bella la reaction di mie amichetti è completo ma la scelta la rifaccio uuuh ma non è un po' massimo 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 è un po' massimo è un po' massimo bellissimo belle poi è bello anche il movimento fra ah adesso è bella fra bellissimo ci hanno messo un po' di olinse così bellissimo bellissimo una cosa bella è che va anche c'è detto Giorgio Giorgio ah lo sapevo è un po' di olinse così è bello via fin sotto e poi non hai amare la sera ce ne hai no fra uh sono partite le ventoline era un po' calda ma non c'ha che so che c'è c'è a legno si ce li ha si deve mettere in moto però qui qua sotto pure c'è a legno si povero eh fra guarda qua non c'è una merda c'è una merda c'è una merda di notte è tutta un'altra cosa ma qua 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 vedi di nero in tre m'hai visto cos'è? con quei tre cazzo botti m'hai visto cos'è? eh ho visto ma la me la scritta ma qui si fa rifare la foto però serio adesso questo ammettizzo non mi dispiace un tiro un tiro dove devo fare l'azero eh sì Grazie per la visione!